sotto l'ago di una siringa il silenzio delle stelle attraverso maria teresa g a cura di vb entità tommaso non tutti i ragazzi di qui si sono giocati la vita sotto l'ago di una siringa i più numerosi se la sono giocata sul sedile di una moto di una macchina e perfino dietro il mirino di un'arma ma la reazione è la stessa per ognuno colpa di un'educazione sbagliata sui generis colpa della società ormai assolutamente dimentica dei valori sani e sempre più superficiale avida e corrotta colpa della scarsità di veri educatori anche nelle istituzioni preposte a tale delicatissimo compito vi confesso un episodio della mia infanzia che quando ero in vita mai ho avuto il coraggio di narrare durante la guerra quando ero un ragazzino di nove o dieci anni la fame si contava a metri come diceva spesso mia madre grande abbondanza non c'era mai stata a casa nostra ma a quel tempo si faticava davvero a mettere qualcosa sotto i denti e l'appetito tanto per ricorrere ad un eufemismo ci tormentava più della paura dei bombardamenti una sera tornati mamma e dio dai campi periferici dove spesso andavamo a piedi per cicoria mia madre entrò in una botteguccia sotto casa per comprare mezza lira di liquirizia per mia sorella che aveva la tosse o la tentazione di quei vasetti pieni di pasticche di menta di confetti colorati di bastoncini di legno dolce di caramelline all'essenza di rosa o di viola ebbene sì non seppi vincerla e in un momento di distrazione allungai la mano e ficca in tasca quello che mi era più vicino poco dopo mostrai alla mamma il mio prezioso bottino e ricordo che lo fece con baldanza con un certo orgoglio come se avessi fatto chissà quale prodezza mamma incredula fissò il mocchietto di mentine che avevo rovesciato sulla tavola e con più assoluto silenzio afferratami la mano brandì il cucchiaio più grande e me lo calò sulle dita con forza e con rabbia non ho più rubato in vita mia la lezione era stata salutare e la maestra degna d'ogni lode